Prima amichevole della tournée in Giappone della Roma, primo match dell'Euro Japan Cup al Toyota Stadium di Nagoya. Sta per iniziare Nagoya, Grampus, Roma. Abram tiacola, anticipa di testa ma serve il Sharawi, di testa per Abram che prova a girarsi, sta per entrare in area, si gira bene. Pur Abram ha avuto l'avversario, lo salta Abram, palla dentro verso il Sharawi, anticipato da Nagatani. Matic, in avanti su Tahirovic, quasi al limite, dentro bene per il Sharawi, in area di rigore, il tiro di il Sharawi, strozzato, è uscito. Oggi per Matic, verticale su Tahirovic che può avanzare in avanti per il Sharawi, prova a saltare l'Agerac, non ci riesce. Pronto il Sharawi, la parata di l'Agerac. Benjamin Tahirovic che riprova il cross col sinistro, i bagni e selotta, Abram la mette giù il tiro, l'Agerac ancora la fa sua. Avanza l'Uzbeko fino al limite, il cross in mezzo, Abram di testa, e ancora l'Agerac. Ancora il Sharawi, sempre a sinistra per Tahirovic, pensa al tiro, lo fa l'Agerac, palla ribattuta, la traversa da parte di Bagnez che era rimasto lì. Ancora Matteus, buon numero, punta in limite, ancora Matteus, dentro per Leonardo che è solo Leonardo, Svilar. Cross in mezzo di Camara, colpo di testa, e palla alta. Ancora Masui, dentro verso Sakai che scivola. La palla finisce a Svilar, non c'è più tempo, fischia il signor Imamura. Finisce qui il match, Magoglia-Grampus 0, Roma 0.